... Ah, ci diamo fastidio. Scusa, famiglia. Mamma mia. Ma guarda che... Ma perché è qua la meccano? Ma perché? Questa vediamo. Ma che fa tutto magico? Studia. No, no, no. Inglese? Beh, lo studia è inglese, se no che c'è un discorso il tappo. Vedi la configurazione del messaggio? Andiamo un pochino indietro, per favore. Grazie.